La diagnosi di un tumore e la gestione dell'iter terapeutico sono dei momenti che sottopongono il paziente e i suoi familiari a momenti di elevato stress. Ne parliamo con la professoressa Gabriella Pravettoni, direttore della divisione di psico-oncologia dell'Istituto Oncologico Europeo, che abbiamo incontrato a Roma nel corso di un incontro sulla umanizzazione delle cure in oncologia supportato dall'azienda farmaceutica Merck. Qual è il ruolo dello psicologo in un centro oncologico? Il ruolo dello psicologo in un centro oncologico è quello di supportare i pazienti e i loro familiari, è quello di collaborare con i medici e riuscire tutti insieme in una multidisciplinarietà a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Ci sono state molti ricerche ultimamente che hanno dimostrato e sono state anche presentate nell'ultimo congresso di ASCO a Chicago, una dimostrazione del fatto che i pazienti che vengono supportati, quindi anche i loro familiari supportati significa avere un counseling di tipo psicologico, non solo hanno avuto un miglioramento della qualità di vita, ma un livello di sopravvivenza di sei mesi in più rispetto ad altri che se noi pensiamo che un nuovo farmaco aumenta la sopravvivenza in genere tra i due o tre mesi, capiamo che il supportare psicologicamente i pazienti ha un grande effetto benefico. Su quali ambiti si esercita il suo supporto e con quali vantaggi? Io opero con linee di ricerca che seguono un po' quelle dei progetti europei che stiamo svolgendo è che sono da una parte l'I-Manage Cancer, cioè il fatto che ci sia uno sviluppo di nuove tecnologie, di app, di reti di sostegno, reti nella rete, una funzionalità che permetta di avere delle informazioni efficaci per tutti i pazienti, perché sappiamo che uno dei problemi fondamentali dentro la comunicazione medico-paziente è in realtà che poi i nostri pazienti si rivolgono a siti internet, non meglio identificati, o peggio, a forum che vengono gestiti da persone che senza competenze propongono e discutono di alcune cose. Lo psicologo può anche essere d'aiuto al medico, oncologo, per facilitare il suo rapporto con i pazienti? Io collaboro moltissimo con i medici e abbiamo proprio individuato dei sistemi per cui noi forniamo delle indicazioni al medico prima che il medico veda il paziente, è un po' una struttura di inquadramento, di mindset sul paziente, per cui facendo degli esempi banali, se quella persona è estroversa o introversa, se ha una rete sociale di sopporto oppure no, se è una persona con una capacità di esprimere le proprie emozioni, i sentimenti, oppure se è una persona particolarmente ansiosa e che quindi tenderà a esagerare alcuni aspetti delle proprie percezioni e dei propri sintomi. Quindi dando delle informazioni di inquadramento, di personalità e di attitudini del paziente aiutiamo poi i nostri medici a lavorare meglio con i loro pazienti. Qual è la risposta degli oncologi in questo senso? Lei tra l'altro parlava anche di una scuola di formazione. Noi abbiamo istituito a Milano una cattedra dell'umanità che è un corso di 60 ore che i nostri specializzanti in oncologia fanno proprio perché crediamo fortemente che gli oncologi del futuro non debbano considerare solo degli aspetti necessari di studio della mutazione, della genetica, della personalized medicine, medicina di precisione e di personalizzazione e quindi in qualche modo voglio ritornare ad un tecnicismo che ci fa perdere la persona. Cioè quindi tutto ciò che una persona invece è in grado di affrontare con i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri vissuti, i propri valori, credenze, ideale. Quindi nel sensibilizzare i nostri studenti, futuri oncologi, a vedere il paziente nella sua interezza. Quindi riportare la persona al centro dei nostri interessi. Ci dice un suo commento sul manifesto per la umanizzazione delle cure che è stato presentato oggi? Io credo che questo manifesto sia un passaggio importante nel focalizzare non solo le innovazioni naturalmente scientifiche e il fatto che ci si concentri per migliorare sempre di più la terapia, ma che ponga l'accento sulla necessità che i nostri pazienti abbiano una buona qualità di vita, abbiano una percezione di benessere personale molto elevato. Ora anche la nuova legge parla di sicurezza del paziente come primo punto. Allora se io devo essere sicuro è anche vero che devo capire e condividere tutto quello che sta accadendo. Grazie. 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 Grazie.